Salve, sono Paolo Lozzi, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Belforte del Chienti. Quest'anno, purtroppo, non abbiamo potuto aprire la nostra scuola per i tradizionali Open Day. Così abbiamo pensato di farvela conoscere attraverso le immagini, attraverso alcuni video che sono presenti sul sito della nostra scuola. Conoscerete gli ambienti scolastici, conoscere delle attività che i ragazzi svolgono, conoscere i vostri futuri insegnanti. Inoltre, abbiamo organizzato tre diversi Open Day online per i tre ordini di scuola, nei quali potete iscrivervi direttamente dal nostro sito. Il nostro impegno è quello di creare una scuola accogliente, una scuola sana, una scuola sicura, una scuola di vita. Il nostro obiettivo è quello di far sì che i nostri ragazzi siano istruiti e formati, ma anche quello di farli divertire, affinché possano venire a scuola anche volentieri. Un ragazzo sereno è uno studente che apprende con più facilità. L'Istituto Comprensivo Belforti del Chienti propone quindi un percorso di studi ricco ed impegnativo, ma anche pieno di sorprese, di belle avventure, di esperienze uniche, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, in un percorso di perfetta continuità. Dunque, buona visione e a presto! Grazie!